Imra progetta e fornisce ascensori, montacarichi, elevatori in genere, impianti ed ausili per diversamente abili, con un servizio di assistenza 24 ore su 24. In arrivo al comune di Cava dei Tirreni, 4 nuove unità per rafforzare il settore per la redazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio noto come PNRR. Nei giorni scorsi, infatti, l'Agenzia per la coesione territoriale ha comunicato all'ente metelliano l'assegnazione di 4 unità vincitrici del concorso per il reclutamento a tempo determinato di personale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Per il comune di Cava dei Tirreni non ci sarà alcun onere, poiché i costi, circa 153.000 euro per la prima annualità, sono a carico del Programmo Operativo Nazionale Governanza e Capacità Istituzionale 2014-2020. I quattro ne assunti, in possesso di competenze legate alle nuove tecnologie e al digitale, avranno un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha aggiornato il piano triennale del fabbisogno del personale. L'obiettivo è quello di attuare le politiche di coesione attraverso un miglior utilizzo dei fondi strutturali e dei finanziamenti del Next Generation EU. Una buona notizia per il comune metelliano, considerato che, a causa delle difficoltà del bilancio, sono in stand-by tutte le assunzioni di nuovo personale. Intanto, restando in tema di finanziamenti europei, venerdì 29 ottobre, alle ore 12, presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni, sarà presentato il Parco Inclusivo di Santa Lucia. L'intervento è uno degli otto macroprogetti del Piano Integrato Città Sostenibili, finanziati dai fondi europei, con 11 milioni di euro complessivi.